Da oggi Lillo Capobianco è più comunale ai servizi sociali della nostra città. Il sindaco Vincenzo Corbo gli ha ritirato la delega. Sì, stamattina mi è stata ritirata la delega. Con questo atto si va a interrompere un'azione amministrativa nel settore dei servizi sociali, un settore che è tra i più delicati della vita amministrativa di un comune. Si interrompe questa azione amministrativa che ha dato dei buoni risultati, e anzi oserei dire anche degli ottimi risultati. Il mio impegno in questi tre anni ha portato questo servizio ad avere un'eccellente qualità. Non lo dico io queste cose, ma lo dicono i nostri concittadini. Quelli che si sono rivolti a noi per essere assistiti, quelli che si sono rivolti a noi in grande difficoltà. Questo sacrificio viene fatto sull'altare della politica, ma di una politica della più becera, della più brutta politica che si possa immaginare. Infatti tutto deriva da un accordo che il sindaco ha fatto con un gruppo politico, quando gli è venuta a mancare la maggioranza in consiglio comunale, considerato che quattro consiglieri del suo gruppo hanno abbandonato il gruppo Ristacorbo. Quindi gli è venuta a mancare la maggioranza e ha cercato una stambella all'interno del consiglio comunale e l'ha trovata in un altro gruppo. Oggi quelli gli hanno presentato il conto. Gli hanno presentato il conto dicendo bene, io ti ho appoggiato, ti continuo ad appoggiare, ma tu mi devi fare fare l'assessore. Quindi in questo momento il sindaco è prigioniero, è succube di questo gruppo, è un sindaco che in questo momento è ricattabile, considerato che ha già ceduto a questi ricatti e penso che le difficoltà che ci saranno saranno abbastanza notevoli. Sicuramente i servizi non si fermano, i servizi andranno avanti, però l'input è cosa che potevo fare io, considerato anche che io ero abbastanza presente negli uffici, sicuramente non so se sarà possibile, chi mi succederà potrà farlo. Colgo l'occasione intanto anche per ringraziare tutto lo staff dei servizi sociali partendo dal dirigente, dalla dottoressa Marchese e a tutti quelli che lavorano nei servizi sociali che in questi tre anni mi hanno collaborato e si sono spesi senza risparmio di energia per poter portare avanti tutti i progetti che c'erano e in favore delle persone, dei nostri concittadini, meno fortunati e che avevano la necessità di essere assistiti. Quindi quelle voci che sono circolate diverse settimane fa alla fine hanno trovato conferma? Sì, certo, hanno trovato conferma, però come ti ho detto poco fa il modo di come queste cose vengono fatte sicuramente non sono comportamenti che fanno parte sia dal sistema deodologico di ognuno di noi sia della politica, quella con la P maiuscola. Perché proprio scagliarsi contro l'Illo Capobianco e non adottare un sistema diverso che so magari effettuare un rimpasto in giunta e poi... Ma questo io gliel'ho suggerito al sindaco, gliel'ho suggerito anche perché sarebbe stato più qualificante anche per la sua azione amministrativa perché è chiaro, quando a un certo punto della legislatura un sindaco ha la necessità di fare un rimpasto mi sembra che sia più che normale. Lui aveva l'occasione di rilanciare la sua azione amministrativa azzerando la giunta. Certamente non è che per forza le doveva cambiare tutte e sei, avrebbe potuto cambiarne qualcuno in più, ma il fatto di azzerare e ripartire sarebbe stato un rilancio della sua azione amministrativa che in questo momento lui ha fallito questa occasione, lui l'ha fallita.